Ecco qua si vedono delle aggregazioni in prossimità del fondo di una vaschetta e probabilmente legate a qualche elemento. Vedo dei semi di orzo, ovviamente questo è l'interesse di questi isopodi, ecco quindi semi di orzo che probabilmente se non vengono attaccati vengono perlomeno presi in considerazione come risorsa. Naturalmente le mosche abbondano, vediamo qua un'altra piccola, ecco qua un semi di orzo e tre adulti. Ecco in queste rappresentazioni non si vedono giovani, quindi i giovani sono... ...